Oggi lavoreremo in pizzeria perché ragazzi ho provato in un gioco E no, dovevo fare avanti e indietro, avanti e indietro, sennò non la smettevo Allora, ok, allora eccoci qui, questo gioco e quindi dobbiamo andare su... Cosa possiamo fare ragazzi? Possiamo fare... Il cassiere, già... Ok ragazzi, il cassiere, siamo dei cassieri Eh, sì ragazzi, mettiamo i soldi Oh, buon salve signora Mi vedete tutto, che cosa vorresti? Guarda, io li faccio tutto Cosa vuole raga, non ho capito Raga, è scaduto il conto Dobbiamo rifarlo Cosa vuole? Cosa vuole Ma no Ah, vabbè, se ne andata, è meglio Vabbè, comunque Grazie, facciamo lui Vediamo cosa ci chiede altro Guarda, ti parla Facciamo lui Guarda che io ti faccio tutto No, per cui sono sbagliato La bevanda Eh, vabbè, c'è la bevanda Una macchina arriva in soccorso Buon salve Vabbè, 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 c'è la bevanda Vabbè, vabbè, c'è la bevanda Questa è quella che può fare Ok, aspetti Tipo scelgo di questo Oh, l'ho scelta però devo andare un'altra a fare una cosa perchè ste pinne proprio non si vede bene devo andare a togliermi le pinne che ho queste qua dietro perchè sono brutte quindi non lo voglio avere allora ecco dietro non so dietro e ho queste ecco no non dovevo comprarle andiamo a comprarle a indossare e ora le togliamo qua le togliono fatto raga ho fatto ho tolto ste pinne del cavolo lavorando grazie si pure se non ho lavorato mi hanno dato poco devo dirlo buon salve cosa vuole ordinare? su di noi il vostro ordine prego cosa vuole eh anzi io so cosa vuoi cosa vuoi quindi vuole aspetta rifacciamo e si sa il vostro ordine prego come vuole questo questa è la sua pizza del mio raga è anche la mia migliore pizza che ho mai avuto comunque io faccio il serviente delle auto che mi sono che mi sono sto facendo dunque chiudiamo apriamo il filo intanto aspettiamo a che arriviamo un ciccio pepella secondo me ecco un nostro nostro sono pronto tutti pizza margherita non so ragazzi come fanno fare questa cosa comunque andiamo a servire questo che sia il vostro ordine prego cosa vuole ragazzi vuole uno ragazzi questa pizza grazie aspettavo che arriva un altro sta arrivando ragazzi sta arrivando guarda che io faccio tutto il secondo ecco lei oggi vi lascio il link qui sotto in descrizione del mio video qui sotto in descrizione vi lascio il link di Discord per entrare nel mio canale ok ho scelto la bibita ma che vuol dire se il ciccio pepella non è scelto la bibita cioè non la sento comunque vediamo cosa vuole questo altro qua quest'altro vuole qualcosa vuole qualcosa di importante ragazzi di sicuro comunque ecco un altro nuovo che cosa vorrei sto mangiare le chiede perché ti arrabbi tu ok ok sto provando l'opzione comunque prende un'oretta ok ecco a lei io gli faccio tutto signore gli farei tutto ho scelto eh ma voglio non porzo no ma dai io ho scelto pение ok ma poi questo comunque scegliamo un altro lavoro voglio fare un altro lavoro Allora possiamo fare pure un altro tipo no, questo no, non lo farei mai, e vorrei fare, no ho l'inscatolatore, potrei fare il segnatore, voglio fare il fattorino, ok ragazzi. Ragazzi, eh sì, aspetta, non posso fare la pistola, quindi non scende, ah quella qui si scende, ok allora, 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 Perché sto andando su, perché sto andando su, aiuto, cosa è successo ragazzi, cosa è successo, non lo so, allora non ci sono pizze? Ma c'è un iscatolatore, scusami, no c'è un iscatolatore, ma ci sono delle pizze però, cioè raga, fanno corta molti pizze, no vabbè che, che cavallio non era raga, l'ha rifatta, vabbè sì, Che è successo, ma l'ho messo sopra la pizza, vabbè sì, grazie, chiudiamo, ecco, ok, io prendo questo, Oh mio Dio, che è successo, veramente, grazie, vediamo se sta arrivando un'altra pizza, eccola qui, grazie, eccolo, no spero, ho sbagliato, mi sto andando, Come no, è sbagliato, ma come è sbagliato, ecco, e chiude, vattene, ok, aspettiamo un altro ordine, aspettiamo un altro ordine, Non è l'ordine, non è l'ordine, ci deve essere l'ordine, ma non c'è, ecco la pitta, la pitta, Cosa c'è, raga, vi cambio di posto? Ah, ok, sta pure piovendo, questo non manco, ci mancava, ok, allora, se ne ho questo, questo, Ok, ora la, 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 di sito, qua, Abbiamo una pizza, Ok, Abbiamo una pizza, Bene, abbiamo una, e, Ok, Va bene, ecco qua, allora intanto aspettiamo un'altra ecco la qui è una figata a fare gli spatolatori doppio tempo vabbè vabbè che figa mi hanno mandato su su e pizze oh mio dio bravo 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 ok qua oh mi sta aiutando bene bene metti le pizze metti le pizze ok dammela ah ok lo voleva fare lui ah ok fatto ok vorrei andare con il fatto ma non mi serve un altro orbine non c'è più aspettiamo ragazzi meglio ok ragazzi 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 stiamo andando benissimo stiamo andando benissimo oh cotta ah che fumo vabbè non mi era accorto tutto no spero sbagliato eh vabbè 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 non mi scompaia eh facciamo la pizza come sto sbagliando ragazzi ok lavoro in pizzeria sto lavorando io appunto bello aspetta aspetta ok penso che nessuno sta facendo ma vabbè 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 mio dio c'è allora non c'è la pizza allora si stanno facendo i infatti la bibita la mettiamo qua automaticamente poi questo qua lo facciamo qua facciamo così facciamo così facciamo così e facciamo così oh mio dio ragazzi stavo stanchissimo facendo così si consegna no grazie ok stiamo andando in modo diciamo ok vabbiamo vabbiamo c'è l'attrizza sì e ce ne sono e ce ne sono oh mio dio sto staccando la mia mano è impazzita oh mio dio oh mio dio oh mio dio ho baggato mi sembra andiamo qua ecco ok ragazzi il video per oggi è finito se vi è piaciuto lasciate un like e iscrivetevi al canale ciao ragazzi iscrivetevi al canale